benvenuti allo sfogliatopo del topolino numero 2370 un topolino inesistente è stato infatti realizzato dall'associazione del paper sera in occasione del raggiungimento del 3000esimo numero del settimane disneyiano ho raccontato la sua storia nel video di collezione disney dedicato allo speciale topolino 3000 realizzato appunto dal forum del paper sera non vi aggiungo quindi altra informazione invitandovi a recuperare il link del video che l'ho citato in descrizione e quindi vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per usare le notifiche se tutti i miei video caricati e ovviamente vi lascio la visina dello sfogliatopo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti